Fatta mattina, ci siamo, ci dobbiamo lavare, vado a mamma, tutti si è già lavata, la sedia di rotelle, dove? Eccolo, tutti si è già lavata, che ho messo già il vestito della lavatrice, adesso lo zainetto è qua, andiamo adesso, va bene mamma, apro la finestra, apro le luci, ciao a sacco, ciao ciao, adesso, visto che sono le 8 e 53, tu alle 9 e mezza diventare alle 9 e vendi diventare a scuola, hai mangiato, avete fatto colazione per bene, adesso, mi sembra di prendere lo zainetto e ve l'asilo, lasci le bambole dai, o no, le mettiamo sul letto che ne esigi, che mamma deve andare pure a lavorare, papà ti accompagna l'asilo, mi raccomando, mangia la frutta, te lo stiamo in mandarino, sì, un attimo, che mi metto e ti accompagno, ti puoi pure evitare, ma devo andare a lavorare, ok, che mamma, devo andare a lavorare in posto, andiamo dai, dai, senza sedia a rotelle oggi stai, vieni che tendo la maestra e ce l'ha la sedia a rotella a scuola, ma chi è il mio cane preferito, sì, mamma, puoi venire ad aiutarmi a fare la pulizia, ciao, che ne dite, tu e papà, visto che fate schifezzo, rendervi a fare delle belle accongiature, un attimo che mi vado a vestire, dopo mamma mia, dopo le pulizie, mamma pure tu non hai più vestito così, va bene figliola, mi vesto, a tutti li ti do io un vestito di Marco, e non me lo porti, te lo per tenere, e te ne andiamo a comorare altri, vediamo se che vestito è questo, un attimo che ho fatto un danno, questo qua papà non va più che bene, secondo me non va bene, questo qua è per te ma, questo qua è per papà, te e papà, questo qua è per me, metto a far la lavatrice e arrivo subito, vuoi i caffè sì? prendo la borsa con il telefono, dai andiamoci, si vestitevi, insomma bello, andatevi a far una loggia, troppo bello, e questo qua, va proprio nella spazzatura, tu mamma muoviti, toglietevi questi occhiali, sì però non ci vedo, ci vedi se tu che non hai intenzione, questo qua, te lo buttiamo pure, vai, siete molto più esibili, vedete grandi così, dai venite, entrate, papà tu senti occhiali, me li prendi due occhiali, che sono bellissimi, sono feglie, e andiamo, a farci i capelli, a apoy, lupi è così, a farci gli occhiali, a rarten, a palazzi, Ciao Ciao Signore Che vuoi i capelli che avete Tu li avete fatti E' veramente Pertissimi Per favore di avere Questi occhi Grazie Se li date questi miei poteri Magari è bello Allora Buongiorno Ehm Si prego Volevo far fuori i capelli Se volete una mano Ditevano che sono un preparo chiaro Tanto sono venuta a lavorare io Papà questo qui negozio dove lavoro io Ah ok Con i soldi che gli fai i capelli Tipo mi devi dare trenda Mi devi dare accendo vendi Gli altri togli lì Perché mi sono messo fatto Gli Brevo Gli altri signori vestiti Gli dovevo mettere Ehm Rosi Ehm Gli congiunti li dobbiamo fare Prima venitevi a lavare la testa Tenetevi l'occhiato Ciao signorina Come ti chiami Hannibal? Oh mio dio Come la bamba l'assassina Si però non ci sono Allora a papà gli facciamo questo biondo qua Ciao Cania dice papà E alla mamma questo Oppure grigio la mamma perché Il parfum è a papà No per sbaglio me li sono spettati io grigi Gli rossi li devo fare erano rossi messi Ok Ok adesso venite qua signo prego facciamo i capelli magari come li volete far sì ma basta con li far come magari in l'orecchia ditemi se va bene così va bene così magari pure ci starebbe bene l'orecchietto però io la vedo piccola cosa sì eccomi adesso mi animo a molti colori in capelli ci mettiamo prima lo spruzzante ci fanno i capelli molto luci adesso tu come li vorresti papà fagli li così no ma non è che si fanno i capelli così dimmi se ti facciano così facciamo una cosa questo parrucchietto è adatto per te mettiti qua e te li leggo i capelli facciamo questo dai e adesso andiamo a farli prego mamma prego papà papà a te questo biondo qua perché magari se tu eri bionda papà tu a te a te più sul bianco perché sei vecchio ok così va benissimo asciughiamo venite ok adesso ci mettiamo un attimo dopo per stargli due minuti la mamma te chiama adellina anche te li vieni a fare a schiama adellina si adelli vieni a fare i capelli si come li vuole si è strati per lui tu sei a posto che hanno messo un pochino di fissante tu pure mamma sei a posto adesso ci mettiamo solo un po' di fissante ti rimane volete un pochino d'acqua si sembrano di un pochino allora questi qua sono di mamma questi qua sono di papà magari ce l'ho finalmente ho fatto una congiuntura bellissima quella di prima non ho mai venite adesso andate a lavorare cioè quando dobbiamo pagare niente signora niente grazie dobbiamo fare i capelli lo so se no la mamma non ci aveva mandato qua quanta fila c'è c'è la che li so passate si posso vorremmo sionare che sono di fretta vai ciao signore ciao prego ditemi tutto e mi voglio fare una congiuntura ma io mi voglio aggiustare sì attenti ci penso io intanto venite qua una alla volta e che ve li lavo ora tu vai qua che tu li lavo e li sbianchiamo e li mettiamo bianchi che ne dite si ok adesso togliete il cerchietto per piegare se puoi e aspetto qua tu sei molto carino bravo mettiamo i mantelli questi sono i mantelli della fortuna e perci il vestito dopo lo andremo a recuperare Vieni che laviamo E' quel tuo vestito E' il tuo, la vedete che sono qua i vostri vestiti Avete visto che sono i vostri vestiti Adesso li mettiamo qua un attimo Allora Abbiamo lavato i capelli Adesso li asciughiamo Vieni qua, vieni qua, vieni qua Così Che belli, si Vieni, adesso che colori vuoi? Rosa, no, rosa no Così Questo colore qua, bello Vieni qua, li vestiamo Lui è molto difficile Le cose, sì, lui sì Ma siete fratellini, due settore, sì C'è un minuto e abbiamo finito con te Bene, intendo Tu ti puoi già sedere Puoi già aprirla Grazie Adesso mettiamo il cerchetto e il vestito Perché tu sei a posto Sì, che bello Vuoi un po' d'acqua? Sì, infatti vedo se Tu metti di qua Mettiamo il cerchettino a te Allora, grazie E non da Ti lavo i capelli a te A te quando abbiamo finito I capelli sono toppi d'acqua Per come le stucchiamo Vieni, dimmi come li vuoi Così Così Oh, e si è posto Allora, vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Questi Vieni qua A posto vedo Grazie Tu Abbiamo finito Io li voglio Grici Scuri Certo Grici Abbiamo finito Con voi Apriamo adesso qua Allora Questo è stato sbaglio Questo qua era tuo Tuo Sì E questo qua era tuo Sì Siete a posto voi Grazie Parrucchiero Prego Come nuovi Quando li paghiamo 5 euro Grazie Ragazzi Ho chiuso Come Uff Devo fare i capelli Sì ma 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 Ok Io vado Va bene Fai Buon viaggio Allora Buon viaggio Tra virgolette Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.